Sì, inizierei nel presentare questo importantissimo libro di Polo Portoghesi, inizierei con un grande artista del Seicento, forse meno caro a Portoghesi, forse meno caro anche a me che Nicolas Poussin, perché Poussin quando finiva un quadro era solito dire, credo di non avere trascurato niente. Ecco, la prima cosa che mi viene da dire a proposito di questo libro è che Paolo Portoghesi non ha trascurato niente. Trent'anni di studi su Borromini sono qui non soltanto perfettamente padroneggiati, ma anche internamente riorganizzati in modo completamente compiuto in quello che non è più un aggiornamento, un ristaling delle monografie precedenti, ma è veramente un libro con dei caratteri profondamente nuovi e profondamente ripensati. In fondo anche la trama di questa Coralità di studi, pur essendo portoghesi, forse lui poteva esserlo l'orchestratore di questo libro, ma questa trama si vede come fondo ed è bello che ci sia anche questa Coralità di studiosi che hanno collaborato a questo importante risultato. Quindi un libro profondamente rinnovato, rinnovato senza ovviamente smentire l'impostazione delle monografie precedenti, ricordo. E mi riferisco alle monografie del 1967, del 1990 e adesso questa del 2019, con un percorso molto coerente, ma queste monografie sono testimoni anche del tempo. Il tempo che passa, il tempo che muta le nostre angolazioni, che mutano gli stessi, il tempo che, come una grande e lenta rivoluzione di un pianeta su una stella, ne rivela sempre nuovi risvolti, nuovi lati, pur essendo quella stella sempre la stessa. Quindi questi libri per me si pongono come grandi segnatempo che testimoniano di questa lenta rivoluzione, di questo lento passaggio che tutti noi muta. Volevo sottolinearne alcuni aspetti. I libri del 1967 e del 1990 reperono come sottotitolo Architettura come linguaggio, mentre questo si chiama La vita e le opere. Architettura come linguaggio? Beh, era quello un tema appassionatamente discusso in quegli anni da protagonisti del calibro di Cesare Brandi, Emilio Garroni, Manfredo Tafuri. Un dibattito che poi è scomparso senza lasciare alcuna traccia. Sarebbe anche interessante interrogarsi sul perché di questa totale sparizione dal novere delle nostre conoscenze di un dibattito che era stato al tempo così centrale. Resta il fatto che non più in via del tutto teorica è assoluta, ma nel caso concreto di Borromini questa analogia sussista, non viene smentita nel libro. Perché? Perché il linguaggio di Borromini segue un vero e proprio sistema architettonico, un linguaggio sistematico. Quindi molti elementi ricorrono, ricorrono in maniera mirata, ricorrono entro strutture non casuali e quindi pur non essendo segni, cioè non rimandando ad altro che non siano esse stesse e quindi questo non è il carattere linguistico, però con questa sistematicità hanno fortemente, recono fortemente l'analogia con il linguaggio. E quindi non più linguaggio, ma le opere. Anche qui mi vengono in mente delle associazioni con un altro grande protagonista della cultura italiana, Alberto Asorrosa. Anche lui ha fatto dei segni a tempo scrivendo e riscrivendo varie storie della letteratura. Soprattutto nella, non nell'ultima, ma nella penultima, la grande impresa Einaudi, Asorrosa dà un fortissimo rilievo alle opere. Le opere, si va di bene, non i testi, che era un termine più usato nell'epoca di imperante strutturalismo, ma i testi. Asorrosa stesso ci spiega questa distinzione. Opere perché si è voluto sottolineare il carattere individuale ed eminentemente creativo del testo letterario. Quindi opere come individui, come opere di creazione. Quindi non testi che danno a intendere una lettura più asettica, più da laboratorio, più da letto di anatomia, e opere con la loro maggiore organicità. Un approccio quindi più empatico. Ora, Portoghesi è sempre stato profondamente empatico nelle letture delle opere, però in questo modo direi che si rafforza ovviamente tale carattere in tutta l'intera concezione del libro. E questa idea di vita e opere trova una riprova importante nel capitolo dedicato alla storia di un'anima. Capitolo cruciale perché qui troviamo la più completa raccolta di informazioni e testimonianze sul Borromini, sulla sua vita più che altro intellettuale, le sue letture, le sue amicizie, la sua formazione culturale. E questo senza quegli psicologismi forzati o quelle interpolazioni paraletterarie che spesso vanno di moda e a me danno un po' di fastidio il testo di Portoghesi e i mune da queste emende. Ed è importantissimo perché così troviamo in Borromini una figura assolutamente cruciale, una figura cruciale a mio giudizio soprattutto perché con Borromini si ricompone quell'issidio tra Ars Meccanica e Ars Liberalis che sin dal tardo medioevo aveva preso il piede della cultura italiana. E quindi tra il Borromini scalpellino ticinese e il Borromini che vantava una biblioteca che pochi altri architetti potevano vantare, non c'è quello scontato rapporto tra prassi e teorie che si potrebbe immaginare. Qualcosa di molto più profondo e impensabile perché Borromini innanzitutto non fa mai teoria intesa in senso astratto. Lui ci racconta i suoi edifici, ci racconta le operazioni tramite le quali questi edifici hanno preso quel tipo di forma. Il suo pensiero è un pensiero applicativo distante da quello dei trattati del Cinquecento. Si dovrebbe dire in termini filosofici il pensiero di Borromini è intenzionale. È impossibile pensarlo senza un oggetto verso cui è rivolto. E di converso la prassi non è mai prassi perché non è mai scontata, perché è sempre esito di una riflessione. Quindi con Borromini si riconfigura completamente il vecchio rapporto tra teorie e prassi che da secoli aveva segnato la cultura storico-artistica. E questo poi si propaga nel grande secondo capitolo che riguarda il rapporto di Borromini con i suoi antecedenti storici. Ma anche qui c'è un importante slittamento di terminologia perché nelle versioni precedenti i portoghesi parlavano della cultura di Borromini. Adesso si parla di Borromini e la tradizione. Altro termine molto significativo. E vorrei subito dire che dobbiamo liberarci dall'idea che parlare di tradizione sia indice di un atteggiamento conservatore o peggio. Direi del tutto il contrario. Mi viene in mente che in qualche decennio a fare un importantissimo saggio dedicato a Bernini, Sandro Benedetti diceva che per capire il retroterra di Bernini dobbiamo pensare al termine di tradizione. E in questo citava una voce dell'importante dizionario filosofico Bonpiani della fine degli anni 50 in cui si affermava che tradizione era. cito il vivo riportarsi di tutto il passato di una cultura nel suo presente. E ancora, la tradizione commettale esprime il carattere estensivo del passato. Quindi tutto il passato e il passato in senso estensivo. Quindi tradizione come concetto allargato, non selettivo, non ideologizzato. Quindi direi che in questo modo il termine tradizione è profondamente innovativo e vivificante rispetto a schemi consolidati in cui noi ci troviamo ad operare. E quindi vediamo, e concordo pienamente con portoghesi, questo passato, questa tradizione di Borronini con la quale si può ricomporre una piccola storia dell'architettura. E quindi Borronini è l'antichità classica. L'antichità classica vista come repertorio di forme illimitato, potenzialmente infinito, da più attingere liberamente per singoli casi, senza nessuna volontà di elevarlo a norma. Quindi un atteggiamento profondamente nuovo, che alle sue spalle è soltanto l'importante precedente, quello di Baldassare Peruzzi, che la pensava riguardo l'antico un po' in quei termini. E poi, come molti suoi predecessori, questo antico non finisce subito, ma si prolunga e si propaga nel tardo antico. Ricordiamo l'interesse di Borronini per farsi dare la pianta di San Vitale a Ravenna. E poi ancora il Medioevo, pagina più controversa, ma come non dar torto a Portoghesi quando in quelle strutture fatte da piccole cellule iterate di complesse geometrie mistiline, Borronini usa in fontane, in lavamani, delle forme che somigliono così tanto a quelle del duomo di Milano. Mi sembra abbastanza innegabile questo messo. Poi ancora c'è il rinascimento, c'è il prediletto Michelangelo, ma non si esclude neppure la generazione immediatamente precedente a quella di Borronini, quindi Portaviano Mascarino, perché no? Ricordo che il suo progetto per una loggia di mercanti in banchi è molto simile a quello che poi avrebbe fatto Borronini nel cortile ovale irrealizzato per Palazzo Carpegna. Poi c'è Giacomo della Porta e quegli snodi di fasciature così astratte sarebbero stati molto ben percepiti da Borronini, così come poi il retaggio di Maderno in cui poi si fondi un interesse più personale e un affetto parentale incidibili dalla valutazione di Maderno. Ma alla fine di questa carrellata, se ci rivolgiamo indietro, non possiamo fare a meno di porci e poi c'è una domanda strana che la faccio, nei termini più duri e radicali, ma allora Borronini a che cosa si contrapponeva? E questa domanda è cruciale perché Borronini, ma comunque forse anche un po' Bernini, ma forse tutto il barocco, a che cosa si contrapponeva? E questa domanda la faccio perché ogni grande rivolgimento artistico della non modernità ha sempre voluto costituire se stesso in funzione di qualcosa a cui contrapporsi. E quindi, dico a livello programmatico, perché in maniera sotterranea mille fili di continuità poi si vanno a configurare, ma a livello programmatico il nascimento si contrappone al rozo e ignorante barbaro gotico, il neoplasticismo si contrappone alle frivolezze del rococò, le grandi avanguardie storiche del novecento si contrappongono alla cultura artistica delle accademie. Ma a che cosa si contrappone il barocco? E cominciamo a capire con un po' l'esgomento che non si contrappone a niente. Include tutto. Semmai c'è superamento, ma non c'è antitesi. E da ciò l'unicità del barocco rispetto alle grandi altre trasformazioni storico-artistiche della modernità. E allora ci si chiede, e arrivo alla fine del libro dei portoghesi, la nostra collocazione storica può aiutarci a capire questa unicità? Direi in parte sì e in parte no. In parte sì, anche noi abbiamo il nostro retroterra una storiografia amplissima, senza più gerarchie consolidate e onnicomprensiva, senza più grandi narrazioni. E quindi in parte sì, lo capiamo. Ma anche in parte no, perché la nostra posizione è così venata dallo scetticismo che poi finisce spesso con lo sconfinare nell'Ignaria, che ovviamente da questo siamo lontanissimi da Borromini. Ma Portoghesi vede però che questa figura è in grado di raggiungere il presente e parlarci con grandissima forza, intatta forza, anche appunto e proprio in grazia di questo particolarissimo atteggiamento. Come dice Portoghesi, verso la fine del libro, c'è la liberazione dall'evoluzionismo vasariano, dalla sua genealogia ufficiale. Aggiungo un'altra cosa, che proprio per questa, diciamo, mancata assentività, per questa inclusività, Borromini ha già in sé l'antidoto rispetto a quei tentativi del secolo scorso di arruolarlo nelle magnifiche sorti che poi sarebbero sfociate nella storiografia teleologica che poi portava triunfalmente al movimento moderno. Ecco, questo è un atteggiamento che, appunto, per il quale Borromini aveva già in sé nel suo DNA gli antidoti. E ben diverso è il tono con cui i portoghesi, invece, accenda a Reiter, ad altri maestri della contemporaneità, che parimenti, analogamente a Borromini, si muovono nei confronti del passato senza queste, diciamo, gerarchie precostituite. Portoghesi sempre a dirci che il passato giunge all'ambire il presente di per sé, senza bisogno di essere canalizzato in artificiose costruzioni. E quindi, anche in questo, io vedo, in portoghesi, in questo suo ultimo grande segnatempo, una forte lezione di libertà e di salvezza. Presentando il libro Borromini, La vita e le opere, di Paolo Portoghesi, quando si legge il titolo, il nome del titolo si pensa quasi subito, immediatamente, alla monografia del 1967 oppure a quella successiva, ampliata, del 1990. Ma in realtà partiamo subito col dire che questo volume, appunto dedicato a Borromini, non è una riedizione, ma in realtà è veramente un nuovo libro. È un nuovo libro in quanto delle due edizioni precedenti, quelle del 1967 e quella appunto del 1990, ne è rimasto soltanto il titolo, perché in realtà, diciamo, il contenuto è completamente diverso. Completamente diverso, una parte delle descrizioni ci sono, ma una parte è stato completamente riscritto, come anche è stato riorganizzato, diciamo, i capitoli interni, la sistemazione interna del libro, che adesso è più, diciamo, connessa con una serie di ricerche, anche recenti, che sono state fatte su Borromini, che l'autore, che portoghese ha ridiscusso, reintegrato e riproposto con, diciamo, delle sue versioni personali, piuttosto originali e molto intriganti anche da seguire. Questo perché la ricerca borrominiana, diciamo, che negli ultimi anni ha avuto forse un successo quasi esponenziale, in quanto, a parte, diciamo, l'episodio centrale delle manifestazioni del 1967, a partire dal 1999, ormai più di vent'anni, si sono succedute alcune manifestazioni molto importanti, appunto, tipo le tre mostre del 1999, dove molti studiosi hanno approfondito questioni anche diverse, legate, per esempio, alla progettazione delle opere di Borromini, ma anche ai legami con la società romana di allora, legate anche alle committenze, legate anche alla comunità scientifica europea. Ricordiamo la mostra, le mostre, una delle mostre riguardava il giovane Borromini, cioè il suo apprendistato Lombardo, che si era tenuto a Lugano, poi la grande mostra al Palazzo delle esposizioni di Roma, e poi anche la mostra, la stessa mostra che si era poi spostata a Vienna, anche con delle differenziazioni, diciamo, per quanto riguarda alcune sessioni della mostra stessa. La mostra di Roma, tra l'altro, curata da Richard Bösel e da Christoph Fromel, era molto interessante anche per il catalogo, che si chiamava L'Universo Barocco, dove quasi tutti i studiosi più importanti di Borromini avevano partecipato. Successivamente ci sono state tutta una serie di studi, tutti i più grandi, diciamo, studiosi di Borromini, da Connor, Sauro Rascotti, Nicola Sordini e Martir Raspe hanno contribuito con nuovi contributi, ma sono uscite anche delle monografie piuttosto importanti, come quella di Federico Berlini, che riguarda le cubole, appunto, di Borromini, come quella di Thor Sentiars, che invece approfondiva più l'aspetto del design e quindi anche dell'apparato decorativo, anche delle membrature architettoniche. Per poi chiudersi questa fase a dicembre del 2017 con un'altra grande e importante manifestazione, cioè la mostra di alcuni disegni ai Musei Vaticani e poi un grande convegno che era stato organizzato dall'Accademia Nazionale di San Luca, dai Musei Vaticani e dalla Facoltà di Architettura di Roma alla Sapienza. C'è da dire che questo lasso di tempo, diciamo, la figura di Borromini, quindi, diciamo, si è diffusa come studio, appunto, come interesse a più stradi, cioè non soltanto agli stradi scientifici, ma anche agli appassionati di storia dell'arte, che sono stati sempre molto, molto numerosi e addirittura sono uscite anche alcune pubblicazioni, forse quasi a carattere romanzesco, che per esempio cercavano di analizzare l'episodio del suicidio, cercavano di analizzare soprattutto questo scontro che c'era stato con Gian Lorenzo Bernini, ma anche con Piero da Cortona. Ci sono dei titoli anche piuttosto singolari, non so, da quello di Giuseppe Spadaro, che analizzava al caso Borromini, identificandosi lui stesso con Borromini, quello di Lore Spittoni, che si chiamava Francesco Borromini, l'iniziato, oppure quello di Jake Morrissey, che parla proprio di questo rapporto tra Bernini e Borromini, anche questo forse in un modo un po' romanzato, che si chiama Geni rivali. Addirittura alcune costruzioni borromiane fanno dei scenari anche per dei casi di criminalità, quasi dei gialli veri e propri, come quello di Fabio Bussetti, il titolo di questo volume si chiama Le lacrime di Borromini. Non solo questo, questa curiosità per questo aspetto della personalità di Borromini è stato indagato anche nella televisione, nelle produzioni televisive, pensiamo un po' a Carlo Lucarelli, che nelle Muse inquietanti si fa delle domande, diventa quasi un detective per capire come si erano sviluppati, come si arrivava alla morte di Borromini. C'è questo aspetto della morte che è un po' inquietante e che invece copre un po' tutta la sua produzione, quasi, o comunque si parte dalla fine per tornare indietro, un po' come la recente mostra di Raffaello che parte dalla fine. Anche questo forse è una cosa piuttosto particolare che unisce due geni dell'architettura. Addirittura ci sono stati anche di film, per esempio quello di Werner Weich che ricostruisce la vita di Borromini, anche in questo caso, oppure di Eugène Green con un film che si chiama La Sapienza. Quindi, diciamo, tutto questo grande fervore di studi e di passionalità verso la creatività borrominiana si è veramente autoalimentato in questi ultimi vent'anni e quindi questo libro di Portoghesi sembra quasi arrivare a un punto di cerniera dove riassume un po' tutti questi studi e poi alcune considerazioni vengono rilanciate per poi ricominciare altri ulteriori studi. Quindi questo volume è anche forse una cerniera tra una sintesi e in qualche modo anche un reinizio. Quindi dopo questa premessa un po' poetica, forse se vogliamo, cominciamo a vedere un po' più da vicino il volume. Il primo capitolo di questo libro è molto interessante, molto appassionante e coinvolgente, si chiama Storia di un'anima e praticamente parte dagli esordi di Borromini, quindi la sua infanzia, la Lombardia, e poi percorre tutta la carriera di Borromini attraversando anche alcuni episodi interessanti dal punto di vista biografico e finisce con l'episodio del suicidio. In realtà però questo capitolo non si svolge così semplicemente perché questo inizio e questa fine in realtà sono all'interno del testo e si ripetono più e più volte, integrandosi con le altre vicende biografiche di Borromini, integrandosi con la descrizione della casa, integrandosi con la descrizione degli amici, integrandosi anche con alcuni aspetti che riguardano la biografia dell'architetto, il suo ritratto, la sua figura, insomma degli aspetti che sono via via sempre più diversi. Quindi questo iniziare e finire, che quasi si richiama l'ultima delle elezioni americane di Italo Galvino oppure la coincidenza degli opposti di Nicola Cusano, è molto interessante perché praticamente mostra la complessità della vicenda biografica dell'architetto e non soltanto della vicenda biografica ma anche della vicenda per certi versi creativa. Il centro di questo capitolo secondo me è proprio la casa, la casa di Borromini che era una casa studio che aveva ereditato da un parente che si chiamava Leone Garbo, che veniva anche lui dall'area di Bissone, era più grande, lavorava nel cantiere di San Pietro, Borromini lo guadiuvava soprattutto come scultore d'architettura, alcuni dei capitelli della facciata di San Pietro sono proprio opera di Borromini, come sappiamo all'inizio della sua attività era uno scalpellino che però si dilettava già di architettura, sapeva disegnare molto bene e quindi come tutti sanno insomma la storia è abbastanza nota, viene notato da un altro parente che era un po' alla lontana, Carlo Maderno, che lo coinvolge subito di fatto come aiuto nell'abilitazione di molti disegni di progetto. Questa casa è una casa molto interessante, si trovava al vicolo dell'Agnello, praticamente alla fine di via Giulia, dopo la chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, una casa che purtroppo non esiste più perché non è sopravvissuta alle demolizioni ottocentesche e questa casa era composta praticamente di tre livelli, diciamo era su due piene e mezzo e il portoghesi descrive questa casa all'interno di questo capitolo rileggendo l'inventario dei beni, l'inventario dei beni che era stato redatto dopo la morte dell'architetto e questo inventario dei beni già fa capire, quasi in luce già da questo primo capitolo, si comprende un po' le vicende dell'architetto e le sue peculiarità architettoniche e compositive. Intanto già il posto è abbastanza intrigante perché era vicino a San Giovanni dei Fiorentini alla fine del rettifilo bravantesco di via Giulia, era sul Tevere di fatto perché era sull'Ansa sul Tevere e praticamente abitava di fianco al passetto dove si andava a prendere il traghetto che attraversava il Tevere e portava le maestranze quindi dall'Ansa, dal rione ponte verso San Pietro e quindi Borromini dalle sue finestre poteva vedere la ripa del fiume, poteva vedere questo percorso, quasi un metronomo di questo traghetto che andava su e giù per il Tevere portando maestranze, portando anche persone che lui probabilmente conosceva molto bene. Questo aspetto della visione è un aspetto forse poetico ma credo che sia anche importante per l'aspetto creativo di Borromini perché in qualche modo lo ricollegava almeno idealmente al panorama l'acquale che lui vedeva da giovane a Bissone, quindi sul lago di Lucano, in questo caso invece era un panorama fluviale dove c'era questo fiume che scorreva, scorreva del tempo, alcuni concetti sono quasi all'interno di questo primo capitolo. Questo primo capitolo poi si occupa di tante altre cose di cui poi ne parlerà, come ha già parlato, Augusto Locademicis, però aspetti molto interessanti sono proprio all'interno dell'inventario. Nell'inventario si percepisce che c'erano tantissimi disegni, che c'erano anche questa grande ossessione che Borromini aveva per la natura, quindi per le conchiglie, c'erano delle cassettiere con dei cassetti appunto pieni di conchigli, c'erano tantissimi modelli in Cina Rossa, c'erano dei ritratti di personaggi abbastanza significativi e importanti per la sua concezione dell'arte, da Seneca a Michelangelo c'era una statua di San Francesco d'Assisi quando la statuaria del Santo d'Assisi non era poi così tanto sviluppata. Collegato un po' quindi a questa vicenda quasi quotidiana della casa, Paolo Portoghesi inserisce, anzi fa una descrizione di tutte le amicizie, di quelle che potevano essere le amicizie, perché molte cose le conosciamo, alcune ancora ci sfuggono, quindi parlo ovviamente di Giro Spada, studiato anche tantissimo da Joseph Connors, insomma su Giro Spada c'è una grande letteratura, parla di Fioravante Martinelli, un altro personaggio molto importante, di Orfeo Boselli che era questo scultore altrettanto importante per Borromini perché insieme con Orfeo Boselli, Borromini spesso andava a visionare gli scavi in giro per Roma e per la provincia di Roma dove poi venivano ritrovati reperti antichi e di Orfeo Boselli si sa per esempio che lui ha realizzato un busto, diciamo statuario, non un ritratto, diciamo un ritratto di Borromini che però purtroppo è andato perso. E anche questa cosa dei ritratti è una cosa piuttosto interessante perché Portoghesi ne parla nell'introduzione ma poi c'è un apparato iconografico veramente strepitoso dove vengono messi insieme, uno a fianco all'altro, i ritratti più famosi da quello che purtroppo è andato perso, che stava una volta in San Giovanni dei Fiorentini che forse è il ritratto più fedele della fisionomia dell'architetto sino alla famosa incisione che sta nell'Opus Architettonicum, un altro ritratto che stava nell'ex refettorio, oggi Sacrestia di San Carlino alle Quattro Fontane e poi mette anche un ritratto molto interessante di Corrado Fuseli su Borromini giovane che credo che dipenda ancora sia una filiazione degli altri però potrebbe anche essere invece qualcosa di un po' diverso. Come è altrettanto interessante sono le due caricature attribuite a Carlo Fontana che mostrano invece un Borromini macerato un po' su con l'età che si vestiva in un modo un po' stravagante come lo raccontano tanti biografi da Pascoli a Baldinucci eccetera. Altra cosa interessante di questo aspetto iniziale di cui parla Paolo Portoghesi all'interno di queste amicizie, di queste conoscenze traccia anche un breve profilo dei suoi collaboratori Francesco Righi e per esempio l'altro suo collaboratore Francesco Massari. Francesco Righi è stato il suo disegnatore storico per certi versi, un disegnatore meticoloso che conosceva come Borromini amava, come dice Werner Huxley, il fare, cioè quello di disegnare riga sopra riga, di disegnare tanto, di modellare i modelli di cera, poi di ritornare sul disegno, di andare in cantiere, di costruire. Righi è forse uno degli assistenti di Borromini di cui abbiamo maggiori conoscenze, muore purtroppo precocemente ed era un assistente che conosceva molto molto bene il maestro. L'altro personaggio centrale negli ultimi anni, viceversa, negli anni un po' di crisi di Francesco Borromini invece era questo Francesco Massari che poi è anche il protagonista, se vogliamo, involontario, volontario dell'episodio del suicidio di Borromini, di cui non ne chiediamo per oggi, e lui era un collaboratore che sapeva plasmare molto bene la creta, sapeva lavorare benissimo lo stucco, evidentemente era anche lui un tagliatore di pietra, un po' come era stato Borromini all'inizio, tant'è che anche lui era dentro la compagnia di Marmorari, come lo era anche Borromini e poi dopo la morte di Borromini diventerà addirittura il reggente di questa compagnia. Quindi aveva una grande capacità di modellare e quindi anche in questo integrarsi nella progettualità borrominiana. Se mentre Righi predilegeva di più l'aspetto del disegno, viceversa Massari di Righi predilegeva forse di più questo aspetto della modellazione, anche perché non abbiamo molti disegni di Massari, mentre di Righi ne abbiamo molti di più. Questo aspetto quindi del fare era molto importante per Borromini perché lui partiva dalla concezione dell'idea, la concezione dell'idea passava anche attraverso tanti altri aspetti, che erano gli aspetti della creatività, gli aspetti dell'iconologia. Borromini aveva quasi mille libri nella sua casa sui del piccolo dell'agnello, insomma, era una messa in modo piuttosto complicata e poi però quando si arrivava all'idea iniziale partiva da un modello in cera rossa, da questo modello in cera rossa si passava al disegno, poi si ritornava al modello in cera rossa, poi di nuovo al disegno, vi avvia una scala di approfondimento che diventava sempre sempre più grande, poi si arrivava addirittura al modello in gesto, anche al modello spesso scala 1-1, insomma, a scala reale, con una sequenzialità che era molto originale, quasi parossistica perché arrivava proprio dei rapporti di ampliamento, di studio che arrivavano poi fino al minimo particolare. In questo libro di Paolo Portoghesi, se voi lo leggete attentamente, troverete che ci sono anche molti riferimenti all'architettura contemporanea e per esempio, qui non ne parla ma secondo me, per esempio, questa attenzione, questo rapporto tra disegno, modello, modello, disegno, questo andare e tornare, come dire, sulla scrivania, sul tavolo e sulle pareti dove magari potevano essere anche attaccati o appoggiati questi modelli, mi ricorda molto Frank Gehry, anche lui un grande appassionato di Borromini e di cui, per esempio, in portoghesi ne parla in un saggio molto importante su Borromini e l'architettura contemporanea e credo pubblicato nel 99 proprio nel catalogo della mostra Borromini e l'universo barocco. In questo testo invece troveremo molti riferimenti a Frank Lloyd Wright, un po' perché questi architetti hanno forse più che altro provato la stessa libertà creativa con cui si associa spesso la produzione di Borromini. Altre cose piuttosto interessanti, non so, c'è anche Dominique Barriere che aveva fatto queste incisioni per una pubblicazione che doveva presentare tutti i progetti di Borromini a cui Borromini stava lavorando negli ultimi anni della sua vita e che purtroppo poi non è stata realizzata. Sul perché non è stata realizzata ci sono diverse illazioni, probabilmente per la morte di Fioramatte Martinelli che era un suo amico, un antiquario e sappiamo che dopo la morte di Martinelli c'era l'episodio del suicidio. In realtà prima di Martinelli muore qualche mese prima anche Orfeo Poselli, qualche anno prima Virgilio Spada, le persone che stavano un po' più vicine a Borromini muoiono tutte nell'ultima fase della sua vita e quindi evidentemente non se la sente più di andare avanti. Vabbè, nel visore del suicidio si può discutere tante cose e anche nel libro in realtà se ne parla in maniera abbastanza diffusa, diciamo che Martinelli, almeno credo, era stato coinvolto anche per mettere in pulito le idee di Borromini, i concetti di Borromini. Era una cosa che allora si faceva abbastanza, io per la mia esperienza l'ho studiato molto Carlo Fontana, Carlo Fontana aveva un letterato che si chiamava Francesco Postella che addirittura era stipendiato e gli metteva in pulito le sue idee, cioè gliele ordinava, le riscriveva. Postella era anche un letterato, aveva fatto parte dell'Accademia degli Infegondi, quindi diciamo un poeta, sapeva scrivere molto molto bene e veniva regolarmente stipendiato. Martinelli sicuramente non veniva stipendiato da Borromini anche perché lavorava in Vaticano, aveva anche altri introidi se vogliamo, però probabilmente con Borromini c'era questa assonanza spirituale e quindi la morte di Martinelli fa pensare che Borromini mancandogli questo sodale, che gli poteva mettere in pulito perfettamente le sue idee, che poteva ordinare questo libro, forse è una delle cause del suicidio, ma questo se ne può parlare anche a lungo. Un'altra cosa che colpisce del volume di Paolo Portoghesi è la struttura di fatto del libro stesso, perché oltre a questa sequenza, che è anche una sequenza almeno, ecco questo è il grande volume, inizialmente anche cronologica, perché c'è un capitolo secondo che riguarda in realtà Borromini e la tradizione, anche questo molto interessante, l'importanza dell'architettura adrianea, poi un capitolo terzo che riguarda le prime opere, un capitolo quarto che riguarda le opere della maturità, un capitolo quinto che riguarda le ultime opere, dove ci sono molti nuovi interventi fatti, riscritti appunto da Paolo Portoghesi e a me è colpito molto invece questo capitolo sesto, che in realtà non è molto grande, perché sono circa una trentina di patina, forse anche meno, però poi nello svolgimento dell'indice, uno svolgimento che riempie praticamente quasi tutto l'indice, perché riguarda le opere minori, quelle non realizzate o distrutte. Queste opere minori sono molto intriganti, perché Borromini, sì, lui teneva a fare cose che poi devono rimanere nel tempo, quindi cose piuttosto grandi, come anche voleva Berlini per esempio, diciamo avevano un'idea che ogni cosa poi che veniva realizzata doveva navigare nel tempo e quindi la grandezza era in qualche modo una granzia che questa opera poteva in qualche modo arrivare alla posterità. Però questa grande caratteristica che ha Borromini di intrigarsi, di lavorare anche nelle cose più piccole, fa sì che tutte queste piccole opere in realtà sono dei piccoli e grandi gioielli. E qui Portoghese mi cita tantissimi, che adesso non le cito tutte, però dalla villa di Bernardino Missori, dal restauro di San Salvatore a Ponte Rotto, il restauro della Piramide Cesta, il portale di Perugia, la stessa villa Martinelli dove si sofferma abbastanza. Io recentemente ho studiato la villa, siamo riusciti a ritrovare dove la villa stava, sta praticamente oggi quasi dentro una chiesa che si chiama San Francesco a Montemario, aveva probabilmente anche una planimetria piuttosto particolare, purtroppo questa villa è irriconoscibile, quindi non riusciamo a capire la planimetria originaria, però qui Paolo Portoghese in qualche modo si interesserisce e ci dà molte informazioni anche abbastanza nuove sull'aspetto di questa villa. Ma ho conosciutato tantissime cose, anche per esempio il primo lavoro, il lavoro per la Madonna di Loreto, dove anche in questa piccola opera ci sto lavorando attualmente, sono riuscito a ritrovare anche dove quest'opera era stata fatta e era sulla via di Ripetta, in prossimità di Via del Vantaggio dove Francesco Mostini, che aveva vicino la galleria di architettura e praticamente anche di questo piccolo lavoro Paolo Portoghese ne dà notizia e dà anche dei riferimenti in qualche modo cronologici dell'opera stesso. Un altro progetto che Paolo Portoghese riesce a delineare, a spiegare molto bene è praticamente l'ampliamento della villa Falconieri, dove ci sono stati recentemente degli studi molto interessanti di Barbara Guardieri Borsori, che attribuiscono di fatto la villa a Camilla Arcucci e qui Portoghese insomma ridiscute un po' questo progetto, mette qualche dubbio, però arricchisce l'aspetto importante che questa villa vera aveva, praticamente Falconieri sta nei pressi di Frascadi, una delle delle ville più importanti dei colli ruscolani e di fatto ridiscute alcuni dei disegni che invece soprattutto due sembrano effettivamente di mano di Francesco Borromini. Quindi praticamente Portoghese in questo volume lancia delle ipotesi, fornisce delle tracce sulle quali poi altri ricercatori, come se vuole dare testimoni nell'avvenire, possono riprenderle e possono in qualche modo ulteriormente approfondirle. Poi sfogliendo il volume, un'altra cosa che colpisce tantissimo è l'apparato fotografico. L'apparato fotografico è tantissimo, è ricchissimo, ci sono delle foto veramente eccezionali che riescono a mostrare nel profondo quella che è la caratteristica dell'architettura borrominiana, cioè quella di Borromini che lavora sulla luce, che lavora sullo spazio. In realtà si percepisce che la fotografia serve a portoghesi proprio per raccontare Borromini. Devo dire che non è una novità, ma in realtà lo è, diciamo non è una novità per chi studia Borromini, perché già Antonio Munoz, nelle prime studi borrominiani sul barocco romano dell'inizio degli anni venti, aveva una collaborazione con i fratelli danesi proprio per creare e far fare delle foto che erano un po' differenti rispetto alla concezione un po' classica, da capalletto quasi dei fratelli alinari. Tra l'altro Munoz aveva collaborato con Pollack, anche lui uno studioso di Borromini tra l'altro, ma di fatto questa grande importanza verso la fotografia di architettura si attuava proprio negli anni 60. Io credo che insieme con Portoghesi ci sono altri due personaggi molto importanti per questo approccio all'opera architettonica ravvicinata. Uno credo che sia senza altro Roberto Pane che nel 1964, come sapete, edita questo volume su Antonio Gaudì, molto importante, perché Gaudì aveva avuto una sorta, in certi versi, analoga a Borromini, un po' messo da parte, un po' nascosto. Questo libro ha il grande merito di avvicinarsi alle opere di Gaudì, di quasi accarezzare, di far vedere le superfici, e la stessa cosa, l'importanza della Rolleiflex, questa macchina fotografica che usavano un po' tutti gli architetti in quegli anni, e la stessa cosa fa Portoghesi con Borromini, sembra quasi accarezzare le architetture, riesce a vedere l'importanza della luce, delle ombre, e insieme con Paolo Portoghesi un altro, potremmo dire, fotografo, in questo caso centrale di quegli anni è sicuramente Oscar Savio. Oscar Savio collabora con Paolo Portoghesi in Roma Barocca, non so, non ho approfondito se ha collaborato anche nella monografia di Borromini, di fatto però le foto di Oscar Savio insieme con le foto di Borromini costituiscono proprio un punto di partenza, se vogliamo, di una nuova ridefinizione dell'architettura di Borromini, sono veramente molto importanti. Io mi ricordo da bambino che mi era appassionato a studiare Borromini, a vedere questo tipo di architettura, perché mio zio mi aveva regalato un numero speciale di Capitolium che si chiamava La Roma del Borromini, con dei testi di Paolo Marconi e con delle foto di Oscar Savio bellissime che proprio entravano, scavavano queste architetture borrominiare. Tra l'altro quello era un volume molto bello perché era accompagnato anche a degli zoom fatti sulla pianta di Roma di Falda e sappiamo che Falda in qualche caso addirittura cercava di anticipare anche delle soluzioni che poi Borromini avrebbe portato nei cantieri che poi si sarebbero chiusi addirittura dopo la pubblicazione della pianta di Falda. Quindi Portoghesi partecipa a questo momento, anzi forse è l'ispiratore di questo momento della fotografia d'architettura e questi volumi sono bellissimi, quindi da sfogliare, da tenere. Per esempio una cosa che si capisce perfettamente sfogliando la monografia Borromini di Paolo Portoghesi è l'importanza delle modanature, l'importanza della luce, l'importanza delle oblique nei rilievi, nelle sezioni degli ordini architettonici, il confronto con Michelangelo e questo avviene attraverso le fotografie ma anche attraverso un'altra grande qualità che ha questo libro, cioè quello di avere molti disegni di rilievo, un po' forse all'interno della scuola romana, un po' forse all'interno della tradizione di Vincenzo Fasolo. Portoghesi riprende questa tradizione ma la fa sua con dei disegni veramente affascinanti che riproducono la realtà dell'architettura realizzata ma propongono anche dei disegni di ricostruzione. Per esempio quello molto noto della soluzione o dell'idea progettuale di Borromini per Sant'Agnese a Piazza Navona ma anche molto interessante è la riproposizione, il tentativo di ricostruire le idee di Borromini per il tiburio di Sant'Andrea delle Fratte partendo da un disegno di Filippo Juval. Poi portoghesi parla anche della descrizione dei modelli e poi vengono un'altra cosa molto molto interessante, c'è una parte molto consistente nel volume in cui vengono pubblicati tantissimi disegni dell'Albertina, tantissimi disegni di progetto di portoghesi con una veste grafica, qui bisogna dire anche che l'editore Schirà ha seguito attentamente le direttive di portoghesi, con una veste grafica perfetta e questi disegni hanno anche le dimensioni in certi versi quasi reali, quasi uguali ai disegni originali di Borromini. Per concludere l'altra cosa che colpisce di questo volume è l'apparato finale. L'apparato finale ha una cronologia secca ma estremamente precisa di tutte le opere borrominiane e poi c'è di fatto questo apparato bibliografico con una bibliografia generale che è veramente interessante, veramente interessante perché praticamente ci sono veramente tutti i testi su cui la critica ha lavorato in questi ultimi anni e addirittura arrivando forse fino a novembre del 2019, quasi il giorno prima della pubblicazione del volume. Quindi per gli apparati, per il contenuto, per le novità che ci sono all'interno del testo direi che questo è un volume che qualunque architetto, qualunque appassionato d'arte e di architettura deve necessariamente, anzi obbligatoriamente, tenere nella propria libreria. Il libro di cui parliamo ha avuto una prima edizione nel 1967 in occasione del centenario della morte di Borromini. Ne ha avuta un'altra nel 90 e adesso diciamo viene ripubblicato completamente riscritto tra alcune parti. Perché? Perché evidentemente in tanti anni l'argomento è profondamente cambiato perché Borromini è stato un po' l'argomento prediletto di moltissimi critici di grande levature che hanno arricchito enormemente le conoscenze sulle opere di questo architetto ma soprattutto hanno riflettuto sul grande significato della sua opera e quindi diciamo che la fine del novecento e più ancora questi primi decenni del 2000 sono stati un momento in cui Borromini ha acquistato quasi le caratteristiche di un protagonista nel campo della storia dell'architettura. Ovviamente lo è sempre stato però non sempre riconosciuto come tale, ha avuto anche un periodo in cui era considerato un corruttore. La sua rivalutazione è data agli ultimi anni dell'ottocento e ha raggiunto però diciamo il suo acme proprio in questi anni. Questa è appunto la ragione per cui non bastava fare una nuova edizione ma era necessario fare un nuovo libro. La ragione per cui il libro ha le caratteristiche di oggi è quella di continuare ad essere o meglio di diventare ancora di più un punto di base per la conoscenza di Borromini e quindi costituire quell'insieme di documentazioni, immagini che consentono a chiunque, anche se sta in un'altra parte del mondo e non ha mai visto le opere di Borromini, quindi di rendersi conto abbastanza dell'importanza dell'opera di questo grande architetto. E quindi è un libro pieno di immagini anzitutto con un corredo di notizie molto importanti ma soprattutto ha ma diciamo forse il suo pregio più raro e più interessante sono più di 300 disegni ripubblicati più o meno nelle dimensioni reali e comunque con grande accuratezza tipografica. Quindi in definitiva chi sfoglia questo libro ha la possibilità di entrare nel laboratorio di Borromini, nel suo studio di guardare da dietro quello che sta facendo perché questi disegni di Borromini sono una testimonianza raffinatissima della sua sensibilità. Sono in un certo senso opere d'arte a sé stante perché sebbene prefigurano delle opere che poi verranno costruite, pochissimi sono quelli che riguardano opere non realizzate, hanno però questa straordinaria efficacia di rappresentare non soltanto l'opera che sta per nascere ma l'autocritica che sta dietro quest'opera, quindi diciamo ci consente di entrare, se può essere accettabile questa metafora, di entrare nel cervello di Borromini, cioè di capire i meccanismi, le leggi, il gusto e le predilezioni di questo architetto che ha costruito ancora giovanissimo, praticamente a 35 anni, un capolavoro assoluto della storia dell'architettura che è la chiesa di San Carlino. Naturalmente il libro ha una parte biografica che racconta la storia di questo architetto e lo fa sulla base appunto di una quantità enorme di ricerche che sono state fatte che hanno messo in chiaro molti punti che erano abbastanza oscuri della sua vita e quindi, sebbene ovviamente non sia conoscibile in ogni dettaglio, è un libro che consente di capire abbastanza, se vogliamo, anche la tragedia della sua vita. Io ho chiamato questo capitolo storia di un'anima, riferendomi a un'espressione di Leopardi che proprio parlando di se stesso diceva in fondo gli eventi della mia vita sono insignificanti, quello che conta è quello che ho pensato. Lo stesso in fondo si può dire di Borromini è stato un artista che ha cercato soprattutto di mettere a fuoco l'interiorità, cioè in un'epoca in cui tra l'altro l'architettura cercava anche il frastuono, la spettacolarità, lui viceversa pur contribuendo a creare il linguaggio del barocco ha però sviluppato soprattutto questo aspetto dell'interiorità, della capacità di rendere visibile l'invisibile. Naturalmente il libro raccoglie appunto anche le diverse tesi perché in fondo quello che è emerso negli studi degli ultimi vent'anni è che Borromini è stato tra gli architetti forse quello che ha dato maggiore importanza a quella che noi chiamiamo l'iconologia, cioè lo studio del significato delle immagini. A volte questo significato è legato a un codice preciso, quindi bisogna conoscere questo codice per decodificare l'immagine architettonica. Molto più spesso direi si può parlare invece di una trasmissione attraverso l'intuizione, cioè non ci si riferisce a un codice prestabilito ma si cerca attraverso l'immagine architettonica di evocare dei sentimenti. Quello che gli descrittiamo la Stimmung Symbolic, è appunto un simbolismo che non è basato sulla decodificazione sistematica attraverso la convenzione ma invece è basato proprio sulla capacità dei nostri occhi e della nostra sensibilità di, come dire, udire quello che l'architettura ci racconta e quello che è stata la profonda intenzione di chi questa architettura ha immaginato. Ci sono almeno tre opere di cui non si può fare a meno di parlare parlando di Borromini. La prima, indubbiamente, è San Carlino, cioè una chiesa in cui Borromini ha cercato di interiorizzare i grandi problemi del momento e nello stesso tempo di interpretare le esigenze della piccola comunità dei trinitari, cioè di questi monaci, che tra l'altro avevano come obiettivo quello della liberazione della schiavitù. Questo piccolo edificio che fa chiesa, che contiene anche strettamente connesso un piccolo convento, è un capolavoro di interpretazione dei grandi problemi caratteristici dell'architettura di quel periodo e nello stesso tempo è appunto espressione della realtà di una piccola comunità di religiosi. Quali erano i temi principali della ricerca architettonica? Borromini ha iniziato la sua carriera romana lavorando a San Pietro, lavorando come scalpellino, quindi umilmente, ed è lì però dove Maderno, che era l'architetto della fabbrica, quindi il protagonista dell'architettura di San Pietro, constatando le sue grandi capacità di disegnatore, lo assunse come collaboratore. Maderno è l'uomo che ha trasformato il modello di San Pietro Michelangelesco basato sulla pianta centrale, disegnando invece una chiesa cruciforme a pianta longitudinale, che mantiene sì parte dell'organismo Michelangelesco, ma in qualche modo lo trasforma accettando il principio tipico della chiesa basilicale di essere un po' espressione del percorso dei fedeli e delle processioni che rappresentano la liturgia. Quindi il conflitto tra pianta centrale e pianta longitudinale era un conflitto in atto in quel momento storico. Si continuavano a costruire chiese a pianta centrale, ma nello stesso tempo c'era una corrente che sosteneva che la chiesa cristiana doveva identificarsi in un certo senso con il modello della basilica. Ecco, Borromini cosa fa? Cerca di esprimere nello stesso tempo i valori della centralità e della longitudinalità. In questo senso appunto affronta un problema molto sentito, però veniva risolto in una forma non organica, inserendo magari un asse trasversale nell'organismo ecclesiastico che appunto sviluppava l'idea della croce e manteneva una certa longitudinalità senza però arrivare, come Borromini arrivò, a una fusione dei due modelli. Quindi questo è forse l'aspetto più successivo dell'architetura di San Carlino. Realizzare un edificio a pianta centrale che però nello stesso tempo è longitudinale. Come potrebbe avvenire una cosa del genere? Diciamo, prendendo come modello, se vogliamo, San Pietro o addirittura, prendo un altro tipico edificio a pianta centrale, la chiesa di Todi della Consolazione. E però, diciamo, deformandola con un criterio che è quello dell'anamorfosi, cioè un criterio che prende le regole dalla visione prospettica. L'anamorfosi è appunto una deformazione topologica che quindi non trasforma la forma ma in qualche modo la modifica e quindi consente senza dubbio di allungare una pianta centrale in modo tale da farla diventare longitudinale. Ecco, Borromini ottiene questa cosa senza minimamente incidere sulla organicità dell'edificio. L'edificio è un edificio perfetto come l'edificio a pianta centrale e però risente di questa idea della forma basilicale che appunto è soprattutto, diciamo, una forma legata a un percorso. Ecco, questo è un aspetto molto importante perché ci fa capire come Borromini affronti i problemi cercando non delle soluzioni facili, non delle soluzioni intuitive, ma delle soluzioni profonde, delle soluzioni che coinvolgono proprio le regole generali della ricerca architettonica. Come arriva a fare questo? Attraverso una grande sensibilità per lo strumento geometrico. Infatti in San Carlino noi vediamo che, diciamo, i quattro absidi circolari del San Pietro, in genere degli edifici a pianta centrale, si trasformano, due rimangono circolari e le due laterali diventano invece delle illissi. quindi in genere, diciamo, la chiesa di San Carlino obbedisce a questo interesse per le forme ellittiche che era stato inaugurato dal Vignola alla fine del Cinquecento. Ecco, forse si può dire che Borromini abbia sentito nella scelta delle lisse l'attualità di questa forma. D'altra parte siamo molto vicini al periodo in cui Kepler individua le traiettorie, diciamo, del movimento dei pianeti come delle traiettorie ellittiche. Quindi, diciamo, l'ellisse entra nella scienza mettendo in crisi il primato del cerchio, in un certo senso. che si era sempre pensato che i moti obbedissero, nei piani di obbedissero, a delle traiettorie circolari. E Kepler invece che fa questa straordinaria scoperta che, indubbiamente, negli stessi anni in cui Borromini ad opera nel modo creativo dell'Isse, si può dire che questa sia una coincidenza legata a una conoscenza reciproca. No, assolutamente, secondo me, non è necessario. In fondo, lo spirito del tempo è proprio questo, qualcosa di inafferrabile che però, senza una diretta spiegazione, influenza persone lontanissime nello spazio che sentono però questa impalpabile caratteristica che noi chiamiamo Zeitgeist. Dicevo che il punto di forza del lavoro fatto da Borromini è la geometria. Una geometria utilizzata non in modo elementare, come in fondo i suoi contemporanei, ma, diciamo, con una grande capacità di trasformare la ricerca geometrica e in qualcosa, come dire, che ha una sua logica interna che deve essere seguita dall'architetto. Effettivamente, se noi guardiamo lo schema geometrico di San Corrino ci accorgiamo che è uno schema di assoluta regolarità. Cioè, è come se Borromini giocasse a scacchi, fa una prima mossa che è quella, diciamo, della scelta tipologica, che poi coordina queste forme che ha individuato, le mette in rapporto. Per esempio, i due cerchi, i due ovali o due ellissi vengono messe in rapporto attraverso lo stesso schema geometrico che consente la loro costruzione. Cioè, un doppio triangolo equilatero sui cui vertici, diciamo, poggia il compasso quando deve disegnare i due cerchi e le due ellissi. Quindi, non sono forme arbitrarie scelte liberamente, ma sono semplicemente l'esecuzione di un principio mentale che ha come obiettivo quello di comunicare dei valori simbolici. Per esempio, i triangoli rettangoli sono espressione della Trinità, uno dei cartini della visione cristiana del mondo. Quindi, in un disegno di Borromini si può leggere questa frase che è un po' il programma iconologico di tutta la Chiesa. Tre e uno insieme. Questo è ciò che avviene appunto nel mistero della Trinità e che Borromini cerca di tradurre in un processo compositivo, quindi utilizzando appunto questi due triangoli equilateri che insieme formano una specie di rombo che sono la matrice, come dire, nascosta della struttura che noi vediamo quando entriamo nella Chiesa. L'inclinazione a 30 gradi dei lati del triangolo equilatero è l'inclinazione di quelle parti rettilinee che uniscono i due cerchi e le due ellissi formando appunto quell'insieme che è il profilo della Chiesa. Questo per dire come in fondo si inaugura con Borromini una stagione nuova, una stagione in cui in qualche modo il rigore della geometria e della matematica si incontrano con il desiderio di innovazione, di invenzione proprio appunto dell'architetto creatore. Diciamo che questo su San Carlino è molto importante perché fa capire che non c'è come dire una fase preparatoria nell'architettura di Borromini. Borromini inizia la sua opera di architetto già maturo. si è maturato lavorando come scarpellino ma soprattutto osservando l'architettura. Effettivamente Borromini viene considerato un innovatore per partito preso e lui stesso dichiara io non mi sarei messo a questa professione con solo fine da essere copista. che vuol dire che non voleva copiare l'architettura però che considerava in qualche modo la copia come un elemento preparatorio dell'architettura. In effetti sappiamo che lui, mentre gli altri diciamo che lavoravano a San Pietro magari durante il pranzo lo mangiavano tranquillamente lui viceversa approfittava di quelle ore di stacco dal lavoro per disegnare, rilevare l'architettura di Michelangelo e in effetti abbiamo dei disegni suoi che sono proprio dei rilievi di queste architetture. Quindi ecco come diciamo la sua inventività nasce da uno studio approfondito dei suoi predecessori che egli vuole in qualche modo superare ma non ignorandone come dire la grande capacità cognitiva ma invece utilizzandola per continuarla. Questo qui è un po' lo spirito che si applica anche nel secondo grande capolavoro di Porromini che è la chiesa di Sant'Iuola Sapienza che addirittura Porromini viene chiesto di costruire la cappella dell'università, della sede universitaria. Quindi diciamo un edificio destinato agli studenti e ai professori un edificio in cui effettivamente l'aspetto come dire interiore l'aspetto segreto della struttura architettonica che acquistano una particolare importanza perché è destinato a un pubblico di persone preparate, colte in grado di capire le allusioni epologiche e nello stesso tempo di capire la complessità del processo composito. In questo caso Porromini sente il bisogno non di legarsi a una tipologia precedente ma addirittura di inventare una tipologia per la cappella universitaria. Lo fa addirittura in principio riferendosi alla Bibbia quindi prende consigli dal Libro dei Re dove si parla della Casa della Sapienza come di un edificio che ha sette lati. Ora, i sette lati individuano una figura, l'eptagono che gli architetti non usano quasi mai perché effettivamente è difficile realizzarsi è impossibile costruire un eptagono regolare usando soltanto la riga e il compasso come si fa per tutti gli altri poligoni. Quindi la mancanza di questa costruzione sistematica fa sì che questa forma sia scartata quasi unanimemente dagli architetti per trovare degli edifici eptagonali dobbiamo ricorrere diciamo alla fantasia utopica ne troviamo per esempio uno nell'Iterromachia Polifili un meraviglioso libro del Quattrocento che probabilmente Borromini possedeva e che diciamo mi suggerisce in un primo tempo di usare questa similitudine con la Domus Sapiensi cioè con la casa della Sapienza per disegnare la sua architettura e però non sceglie l'eptagono ma sceglie invece l'esagono una forma sicuramente più adoperata dagli architetti anche se molto raramente adoperata e questo gli consente di continuare il suo discorso come dire di celebrazione del mistero della Trinità perché ovviamente l'esagono nasce dal triangolo equilatero e quindi diciamo all'interno della pianta di Sant'Ivo è facile identificare un triangolo equilatero che è quello che in un certo senso fa da struttura nascosta da struttura segreta che consente la costruzione poi dell'edificio della pianta nelle sue caratteristiche in effetti ci sono praticamente sei cerchi nella costruzione della pianta di Sant'Ivo sono cerchi più grandi e più piccoli più grandi quelli che individuano queste tre grandi apsidi che caratterizzano sia l'ingresso che la cappella della Tar Maggiore poi ci sono delle apsidi minori che hanno però una conclusione convessa che sono appunto dei segmenti convessi di questi tre cerchi che insieme ai tre principali formano la struttura questo si capisce molto meglio osservando ma era importante sottolineare questo metodo di costruzione complesso che dà luogo a una forma mistilinea che poi nella realtà spaziale sembra come dire fatta di tante parti una delle quali è autonoma che poi incollata insieme formano una struttura piena di ricchezze plastiche in un certo senso è stato detto più volte che la pianta di Sant'Ivo la Sapienza deriva dal Pantheon in effetti come nel Pantheon diciamo la pianta rimane uguale a tutti i livelli dell'edificio quindi non c'è quel passaggio che c'è quando si costruisce una cupola circolare in cui appunto si passa dall'ottagono al cerchio la forma esagonale della struttura di Sant'Ivo è uguale a tutti i livelli fino a che non arriva in cima dove si impianta il tempietto o la lanterna dove appunto dalla forma complessa che ho descritto in precedenza si arriva al cerchio finale su cui poggia la lanterna quindi deriva dal Pantheon ma è come un Pantheon pieghettato in un certo senso quindi con una ricchezza plastica che ovviamente il Pantheon non può avere con uno spazio dinamico uno spazio che dà la sensazione di una contrazione e di una dilatazione io credo che Borromini perseguisse l'idea di conferire alla sua architettura il carattere delle forme viventi e quindi avesse bisogno di evocare attraverso la forma architettonica il respiro il respiro diciamo che richiede appunto un'espansione e una contrazione dell'organo questo fatto della similitudine con la vita è un elemento importante perché effettivamente il barocco e il sciobbo Romini sicuramente ha partecipato alla definizione di questo stile è uno stile che cerca di evocare direttamente i sentimenti quindi diciamo si arricchisce molto rispetto al desiderio di perfezione che domina l'architettura classica rinascimentale nel barocco c'è anche questa volontà di coinvolgere l'osservatore in modo completo come avviene in uno spettacolo Borromini però non ricorre all'esteriorità dello spettacolo ricorre invece appunto a questo discorso mentale raffinatissimo che coinvolge da una parte il metodo progettuale quindi la geometria dall'altro invece l'iconologia cioè l'utilizzo di simboli di diverso tipo simboli appunto legati come dicevo in precedenza a un preciso lessico oppure simboli intuitivi che appunto cercano di evocare direttamente dei sentimenti ecco un altro edificio di cui voglio parlare perché costituisce un po' il completamento di questa visione è la cupola di Sant'Andrea delle Fratte il lavoro di Borromini a Sant'Andrea delle Fratte è provocato dall'incarico che gli viene dato dal Marchese del Bufalo il quale ha intenzione di realizzare la sua sepoltura sotto una cupola più o meno ricordando quello che era stata l'idea di Giulio II che fece appunto progettare da Michelangelo la sua sepoltura che doveva stare sotto la cupola purtroppo naturalmente del progetto ben poco è stato realizzato il Tiburio effettivamente è opera di Borromini però si innalza al di sopra di una chiesa preesistente in cui Borromini aveva l'obbligo di non modificare Granchè mentre il grande spunto creativo sono sia il Campanile sia appunto il Tiburio che Borromini ci ha lasciato incompleto cioè manca della finitura dell'intonaco ed è un edificio affascinante proprio per questo perché ci fa vedere come Borromini curasse con grande finezza diciamo la struttura che poi sarebbe stata intonacata la quale oggi ci dà un'idea diciamo affascinante di un edificio che nello stesso tempo è un edificio come dire relativamente recente ed è qualcosa che lo accomuna con il Ruderi con gli edifici romani che Borromini aveva studiato lo sappiamo dalla documentazione che era un appassionato archeologo Borromini probabilmente la chiesa di Sant'Andrea del Fatto e il Tiburio è ispirato proprio a un sepolcro romano che sta sulla via Appia che appunto ha delle forme analoghe e quindi il fatto che Borromini poi ce lo abbia lasciato così non finito sicuramente è un aspetto che dava un particolare fascino a questo monumento naturalmente questo aspetto di non finito è in pieno contrasto invece con il finitissimo campanile in cui Borromini dà la misura della densità diciamo della sua arte plastica perché è veramente come l'opera di uno scultore elaborata in ogni punto anche se c'è un rigoroso schema geometrico a cui obbedisce ci sono poi queste figure angeliche che formano la cellula finale e c'è questo coronamento su cui vale la pena disoffermarsi cioè un coronamento con una corona di metallo che diciamo è l'espressione della parola humilitas e sotto questa corona è sostenuta da una serie di elementi che si liberano diciamo non sono elementi costruttivi tradizionali sono come delle volute, dei tentacoli di una piovra che si innalzano per tenere in alto questa corona la tecnica che Borromini ha usato per realizzare questo coronamento del campanile è una tecnica veramente innovativa potremmo definirla diciamo un esempio di muratura armata perché in effetti si tratta di una struttura metallica che poi è diciamo irrobustita da una struttura invece di tipo murario quindi questo aspetto ci dà un'idea di come Borromini in un momento infelice della sua vita quando tra l'altro non aveva più lavoro e aveva pochissimi incarichi da realizzare abbia avuto questa ispirazione veramente innovatrice che riguarda anche la tecnologia questo stesso sistema probabilmente Borromini lo voleva utilizzare anche nel coronamento della cupola che è rimasta senza coronamento e abbiamo dei disegni che consentono di capire cosa Borromini forse in un primo tempo avrebbe studiato abbiamo però anche un'altra testimonianza molto importante cioè Filippo Iuvarra, grande architetto del Settecento che da Borromini ha preso moltissimo e lo confessa soprattutto per quanto riguarda il linguaggio decorativo Filippo Iuvarra probabilmente dette al suo allievo il compito di rilevare un modello un modello di cera rossa che Borromini aveva nella sua casa che appunto era il modello del coronamento della cupola di Sant'Andrea d'Elefante il disegno che ci è stato tramandato è effettivamente un disegno schematico che però fa capire che Borromini avrebbe usato anche per il coronamento della cupola lo stesso criterio che aveva usato per il coronamento del campanile cioè la muratura armata in effetti da questo disegno si deduce che Borromini aveva pensato a quattro grandi nervature che sostenevano poi il coronamento, una specie di latterna cosa che tra l'altro fa pensare a una specie di atto nostalgico perché Borromini aveva iniziato la sua carriera collaborando con Bernini nella costruzione del baldacchino di San Pietro e è mia convinzione che Borromini ci abbia messo del suo nel studiare il coronamento e probabilmente questi elementi di bronzo che si alzano anche questi con una movenza diciamo biologica per sostenere in alto un coronamento di Roccavo che regge la cruce e questo finale diciamo del grande episodio plastico del baldacchino di San Pietro è stato quantomeno pensato insieme dai due autori Bernini e Borromini e probabilmente la parte borrominiana era una parte fondamentale cioè l'invenzione probabilmente era proprio l'invenzione del collaboratore per quanto riguarda la soluzione finale quindi diciamo Borromini avrebbe sentito secondo quello che è la mia idea la nostalgia di questo oggetto importante che aveva caratterizzato un momento della sua giovinezza che è proprio il momento iniziale e per realizzare non in bronzo ma invece in muratura questa struttura così ardita avrebbe pensato a una struttura metallica da rivestire con un corpo murario ecco io ho tentato di ricostruire questa immagine che è uno degli elementi nuovi di questo libro che probabilmente susciterà anche delle reazioni perché evidentemente questi disegni possono essere interpretati in molti modi diversi per di più è un disegno incompleto probabilmente la stessa modello in cera rossa che Borromini stava facendo non era completato in tutti i suoi aspetti questo fa pensare la mancanza di un coronamento finale ecco però l'idea di queste quattro volute che si liberano dal corpo della cupola e vanno verso il cielo è una metafora di questo rapporto tra terra e cielo che sicuramente Borromini ha portato dentro di sé come uno dei grandi valori da esprimere effettivamente per una sensibilità religiosa come quella di Borromini questo rapporto tra terra e cielo è uno degli elementi di base del suo pensiero architettonico e probabilmente deriva anche da questa infanzia passata davanti al lago di Lugano in questo piccolo paese di Bissone che ancora oggi diciamo ci dice moltissimo di quello che può essere stata questa infanzia e questo grande desiderio di fare di immaginare di costruire che poi Borromini è riuscito a soddisfare arrivando a Roma in un modo che diciamo i biografi raccontano in modo un po' leggendario cioè avrebbe riscosso dei crediti del padre e sarebbe partito all'insaputa della famiglia per Roma che ovviamente in quel momento era la mecca degli architetti perché era un periodo di grande attività edilizia un periodo diciamo in cui si celebrava l'Ecclesia Triunfans dopo diciamo la grande avventura della riforma e della contro riforma ecco dicevo che uno dei pregi di questo libro è di consentire al lettore di sfogliare queste centinaia di pagine diciamo che riproducono fedelmente molti dei disegni che sono conservati in gran parte a Vienna nella collezione Albertina ecco ci sono disegni di tutti i generi, prevalgono i disegni che usano come tecnica la matita e che hanno come caratteristica personale diciamo l'individuazione delle ombre o delle sezioni attraverso un tratteggio molto sottile fatto a volte con grande finezza e che è proprio una delle caratteristiche espressive che fanno riconoscere un disegno di Borromini da qualunque altro ecco io vorrei richiamare l'attenzione su un disegno in cui Borromini sente il bisogno poi di raccontare o perché pensava di poter dimenticare qualcosa e quindi ricordare a se stesso alcuni dettagli oppure addirittura per ragionare per introdurre come dire delle confessioni per esempio questo disegno che è un disegno che rappresenta degli stemmi pontifici sicuramente destinato al restauro di San Giovanni in Laterano quindi la sua opera più importante è molto interessante in questo disegno osservare come Borromini prenda spunto sempre dalla storia delle tradizioni in questo caso lo stemma pontificio chiaramente come delle forme che si ritrovano nella successione dei tempi Borromini parte però sempre dal principio dell'innovazione quindi per fare un esempio qui si può osservare come le chiavi di San Pietro incrociate che sono una delle caratteristiche dello stemma pontificio invece di rivolgersi verso il basso si rivolgono verso l'alto e questa è una caratteristica che ritroviamo anche in molte dei stemmi realizzati da Borromini ma forse la cosa più interessante è leggersi il commento il quale spiega appunto quello che lui ha pensato di fare cose diverse nei piedistalli e poi alla fine diciamo da una giustificazione sostanziale per questa variazione di elementi è una delle caratteristiche della sua architettura cioè non ripetere o ripetere sempre con piccole varianti che testimoniano questa volontà di rinunciare di non rinunciare mai all'invenzione e qui alla fine di questa nota dedicata a questa decorazione dice per non fuggire per fuggire il tedio quindi per evitare la noia ecco questa ricerca della ricchezza per evitare la noia fa pensare a un architetto del nostro tempo Robert Venturi in quale diciamo riferendosi a una frase di Miss van der Rohe che diceva che il meno è il più dice invece il meno è noia rivendicando la libertà del più rispetto al meno quindi rispetto alla semplificazione c'è anche la complessità d'altra parte secondo me in Borromini noi troviamo la ricerca della complessità e della semplificazione nello stesso tempo queste forme diventano semplici attraverso una elaborazione particolarmente vissuta particolarmente sofferta che però appunto ha come obiettivo finale l'assolutezza, la necessità e quindi in un certo senso anche la semplicità